E' arrivato l'arrotino materassi a molle, l'arrotino a molle, arrotino molle mali morta. E' reato svegliare le persone alle 7 di mattina? Ma assolutamente sì, è reato e vi spiego perché. Innanzitutto perché i rumori non devono superare la normale tollerabilità, il che significa che il rumore sulle strade, a meno che non sia strettamente necessario come il clacson di un'auto, non deve entrare dentro gli appartamenti, altrimenti si rischia una condanna per disturbo alla quiete pubblica. Questo almeno se si molesta un numero ampio di persone. Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 309 euro. Anche le attività commerciali rumorose poi devono rispettare gli orari del riposo. E alle 7 di mattina sono ancora a orario di riposo per tutti i cristiani, ma non è tutto. Le persone che fanno queste attività devono essere provviste di due autorizzazioni. La prima è quella per l'esercizio dell'attività ambulante e la seconda è quella per la pubblicità col mecafono. O se così non fosse potreste chiamare la pulizia municipale e dire definitivamente addio all'arrotino, ciao ciao all'arrotino e poi dal carcere voglio vedere su quale molle dormirai. Questa è la legge.